Sì, oh yeah, ah, sì, ah, come on, come on, eh, metto benzina, metto gasolina, mi fai impazzire quando fai la gattina, va fermo, dove stai andando, fermi, oh mi piace questa, oh fammi cantare, non mi piace, il tormentone piace, a me, cioè io non ce lo voglio, io voglio cantarla, sesso e samba, sesso e samba, ti stacco la cuffia e non fai più niente, metto benzina, metto gasolina, dobbiamo fare il promo della radio, facciamo il promo, vai, metti un disco, vai, facciamo il promo, vai, vai, dal 19 settembre alle 21, poi in podcast quando vuoi, e tutti i giovedì, la sesta stagione di Ricky J Radio Show su Radio SP30, intrattenimento, news, storie, risate, ospiti, rubriche, DJ set, vai DJ Marco a caso, vero Merck? vero, vero, abbiamo anche la voce ufficiale di Rossella, ed è questa, ciao, sono Rossella, la voce ufficiale del programma, non sono un'intelligenza artificiale, sono vera, ai microfoni, Ricky Rock Voice e DJ Marco a caso, Ricky J Radio Show, il podcast che suona come un programma radiofonico, vi aspettiamo, questo è Ricky J Radio Show, a presto!